Dai raga, c'è da essere contenti eh, diciamoci la verità, ciao a tutti e bentornati Prima post gara di questa stagione di Serie A Juventus a suolo finita 3 a 0, sono contento del risultato Poi sul gioco, poi andiamo nel dettaglio, cosa c'è da migliorare, cosa c'è che non va, cosa c'è invece che funziona benino Insomma facciamo un po' un bilancino di questa prima partita che non ci dice nulla in realtà Perché le prime partite ragazzi, vedo gente che già arriva dalla prima partita a fare dei pronostici sul finale di stagione Attenzione, io mi ricordo che l'anno scorso il Napoli fino a dicembre era saldamente in testa, poi crollo verticale E' una maratona il campionato, per cui sono tante le cose che fanno la differenza Però su questa prima giornata di campionato sicuramente c'è da essere contenti, ecco, contenti Poi vediamo se ci saranno le basi per innescare un meccanismo di nuova fiducia nei confronti della squadra per il proseguo della stagione Però intanto, prima partita, vittoria 3 a 0, c'è da essere sicuramente contenti Bentornati ragazzi e mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Perché la maggior parte di voi non è iscritta al canale Per cui dobbiamo raggiungere grandi risultati, dobbiamo vivere insieme questa stagione qua Stagione tosta, bella, ricca di emozioni e sofferenze Una stagione particolare che verrà interrotta dal Mondiale Ma la viveremo insieme, mi raccomando iscrivetevi Scaricate la PuanFootball Trovate il link in descrizione, la migliore app per rimanere aggiornati sul calcio Allora ragazzi, da dove partiamo? Commento complessivo Secondo me la Juventus è interpretato meglio sia tatticamente che tecnicamente la partita rispetto al Sassuolo Questo credo di poterlo dire Tecnicamente poi c'è da migliorare tantissimo Tantissimo Ma questo lo dicevo prima l'anno scorso Lo dico quest'anno Perché poi arriveremo anche alla critichina che possiamo fare alla Juve di oggi C'è da migliorare Però è una Juve che secondo me era in pieno controllo della partita Abbiamo costretto il Sassuolo a trovare delle giocate più improvvisate Inusuali Non abbiamo subito delle giocate all'interno dell'area di rigore pericolose Che potevano portare la Juve a subire gol Li abbiamo costretti al tiro da fuori Che per carità hanno dei bei calcianti Perché 3-4 tiri da fuori area Tutti là dentro la porta Poi magari tiri facili anche da parare per Perin Una bella parata plastica sul Mi pare su Toljan Che ha tirato un siluro da fuori area 35 metri anche 30 metri Parata plastica Qualche altro interventino Però gli spauracchi ragazzi che sono arrivati alla Juve Secondo me ordinari Niente di trascendentale Niente di straordinario Non è che il Sassuolo Dal punto di vista degli expected goals Sono curioso di vedere il loro dato Che secondo me è molto vicino allo zero Torna da noi La Juve invece ha creato tanto Secondo me E ha concretizzato anche poco Ci sono state più e più occasioni Donde la Juventus comunque poteva chiudere Con un vantaggio un pelo più netto Vi faccio l'esempio Il retropassaggio di Danilo E il tiro di Dusan Vlaovic Che esce di poco a lato Cross lo stesso di Danilo Taglio di Vlaovic centrale Tiro di poco a lato Sul E nel finale di partita Un'azione confusa da calcio d'angolo Calcia a lato Sono tante le occasioni che la Juventus ha creato E secondo me qualcosa in più la potevamo raccogliere Ma non mi lamento Perché il 3 a 0 è il risultato Tutto sommato rotondo Che va bene Era importante anche non subire gol Non abbiamo subito gol Ne abbiamo fatti 3 Non è che ci sia da fasciarsi la testa Su quel che è stato fatto male Però c'è da fare un pelo d'autocritica E avere sempre la voglia di migliorarsi Perché io quando le cose mi vanno bene Non mi adagio sul risultato Ma cerco anche di dare un po' di continuità A quel miglioramento E cerco anche di capire dove posso Fare qualche passettino in avanti Ed è questo che deve fare sicuramente la Juventus Perché la Juventus oggi Nel primo quarto d'ora mi è piaciuta Nell'atteggiamento In particolare nella riaggressione Che è un atteggiamento che ho riscontrato Anche a inizio secondo tempo Quando la Juventus ha siglato il terzo gol Dove il difensore fa una porcata immonda Che sembrava un po' Arthur Vi ricordate col Benevento Quando butta quella palla in mezzo all'area In quella maniera Di Maria Che stoppa La passa a Vlaovic E chiudiamo la partita Quello è un atteggiamento di squadra Che costringe l'avversario all'errore Ed è una cosa che a me piacerebbe Vedere e rivedere Più volte In tante tante partite Quella è una cosa positiva La riaggressione in certi momenti della gara Mi è piaciuta La seconda cosa che mi è piaciuta La cattiveria con la quale la Juventus ha attaccato Veramente molto 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 bene La terza cosa che mi è piaciuta Negli errori di costruzione In particolare della difesa Anche quando Bremer perdeva qualche passaggio Mi stupiva il buon Bremer La tranquillità con cui veramente gestiva la situazione Ha recuperato una marea di palloni in questa maniera E' una Juve che deve migliorare però dove? Nella costruzione del gioco a metà campo Una Juve che è stata molto pasticcione In particolare con Locatelli Che non ha giocato una partita molto bella Devo essere molto sincero Zaccaria tecnicamente ha sbagliato tanto Stessa cosa a McKennie McKennie però nel secondo tempo Ha fatto qualche taglio ben fatto Qualche inserimento che sa fare molto molto bene Ce l'ha nelle corde Riesce a sfruttare la profondità E il taglio nel corridoio tra il centrale e il terzino Questa cosa l'ha fatta veramente bene Però tecnicamente troppi pasticci e palle perse E' una precisione passaggi Secondo me sotto la media normale Quando è entrato per esempio il buon Miretti Io ho visto un'azione intorno al settantesimo Settantunesimo ragazzi Andatevelo a rivedere se vi capita Perché c'è una palla dove lui riceve spalla alla porta E di prima intenzione la gira largo E la troviamo il lato scoperto dell'avversario E ci buttiamo direttamente verso la porta avversaria Per cui il difetto che ha Locatelli Nella fase di impostazione in generale E' il fatto che pensa a due o tre tocchi Dovrebbe iniziare a ragionare su un tocco Per cercare di velocizzare un po' i tempi di gioco E cercare di bruciare un po' l'avversario Per trovare l'angolo scoperto con una rapidità maggiore E poi quei due ragazzi secondo me Nella fase di rifinitura eccetera Sono un pello adattati L'altra cosa magnifica invece di oggi E' sicuramente un angle di Maria Che però mi ha preoccupato per come uscito Per quel problemino all'adduttore Quindi sono tante le cose positive Ma ci sono anche delle cose che vanno sicuramente migliorate Ok? E Vlaovic che nonostante una condizione Secondo me fisica ancora non ottimale E' riuscito a fare due gol Questo è un buon segnale E dei palloni e dei rifornimenti Oggi il ragazzo non si può assolutamente lamentare Comunque si è procurato un bel rigore Netto secondo me Ha fatto il gol con un bel movimento Poi è stato servito da Di Maria Che lo ha premiato Ha avuto anche due chance Per poter arrotondare Per poter fare la tripleta E portarsi il pallone a casa Non ci è riuscito Ma sono contento comunque molto Della prestazione di Dusan Comunque la Juve è il ragazzi Che deve ripeto Migliorare nella costruzione del gioco Nella manovra Renderla un pelo più fluida E' là che vanno fatti i miglioramenti A me non ne frega un cazzo Dell'atteggiamento della squadra Se si abbassa Se non si abbassa Il problema è che Quando recuperiamo palla L'importante lì è sapere Che cosa fare nel pallone E spesso ragazzi Improvvisiamo con lancioni lunghi Buttiamo palloni Magari facciamo anche delle buone azioni In uscita E facciamo poi un errore tecnico Che vanifica tutto Cioè bisogna migliorare tanto Tecnicamente Nella gestione Veramente della palla E' la chiave di volta Di questa nuova Juventus Se vogliamo essere competitivi Ed essere una squadra Che ambisce seriamente Allo scudetto Nella circolazione di palla Dobbiamo essere molto più precisi Molto più fluidi In generale Soprattutto a centrocampo E credo che vabbè Con Pogba Magari con l'innesto di Paredes Qualcosa possa sicuramente Cambiare in meglio In tal senso Ma vediamo Vediamo Di Maria ragazzi Giocatore straordinario Nulla da dire Ha fatto il diavolo a quattro Oggi Ha fatto tutto ciò che voleva Tutto ciò che voleva Speriamo che non abbia Nulla di serie all'adduttore In tal caso Bisognerebbe velocizzare L'arrivo di Depay Mi è piaciuto Kustic L'ho apprezzato molto Tecnicamente Peccato che i suoi compagni Non abbiano letto Il suo modo di crossare Perché Lui va quasi a calpestare La linea di fondo Ma poi crossa un pelo dietro L'ho fatto più e più volte Ma noi ci siamo sbilanciati Verso la porta Avversaria Tan E' una Juve che Veramente Secondo me Può migliorare tanto E ci può anche Divertire parecchio Però Serve tanto Tanto lavoro tattico Tanto lavoro tattico E bisogna migliorare Sicuramente l'intesa Alla davanti Ma una Juve che Veramente ragazzi Per i giocatori Che ha là davanti Può farci divertire Veramente Speriamo bene Speriamo bene Però L'inizio E' sicuramente positivo E credo che Al di là delle critiche Che uno oggi Possa fare Perché sono lecite Ci stanno le critiche Nessuno di noi Avrebbe mai ipotizzato Un inizio di campionato Così Contro il Sassuolo Alla prima Dopo aver visto Quel precampionato Non ci saremmo Sicuramente aspettati Questo risultato Mia opinione Signori Questo è tutto Un abbraccio a voi E sempre Fino alla fine Forza Juve Alla prima Alla prima Grazie.